quella che vedete che avete visto è cavabatano è uno spazio di 56 mila metri quadrati anche più circa 45 campi da calcio in questo spazio che è privato terna ha indicato in un progetto la realizzazione di una centrale di distribuzione elettrica qui a fronte di una linea di 8 km da sostituire si intende fare 26 km di linea nuova più una mega centrale come questa a noi ci sordono dei dubbi noi abbiamo presentato un'interrogazione in regione toscana per andare a capire se questo è un luogo adeguato e lecito per poter fare una centrale di quel tipo quindi vorremmo fare tramite ARPAT indagini geognostiche per capire che sia omogenea e conforme alla realizzazione